Ciao! Stai cercando una soluzione per cucinare sano e gustoso anche se hai poco tempo? Abbiamo una soluzione giusta per te. Io sono Mauro e io sono Francesca e da 10 anni collaboriamo con AMC per dare soluzioni in cucina alle famiglie. Un esempio, quante volte cucini un risotto in settimana? Poche, perché ha poco tempo. Pensa che con il nostro sistema puoi prepararlo in un minuto di cottura e senza mischiare. Questo è possibile perché nonostante le ventole sia in acciaio e prive di rivestimento il cibo non attacca e con il controllo della temperatura si preserva la qualità degli elementi. Se sei tecnologico c'è anche la possibilità di cucinare a distanza grazie alla nostra app. Non hai mai visto nulla del genere in cucina vero eppure pensa che esiste. Attraverso un cooking show virtual o in presenza potrai vivere questa esperienza e conoscere il sistema di cottura AMC. Non si tratta di essere i migliori ma avere un prodotto unico al mondo. Clicca sul link sotto per avere maggiori informazioni e prenotare il tuo evento. Ti aspettiamo! Ciao!